E' giunta poco dopo le 17.30 la sentenza al processo sui grandi eventi a Pescara dopo una lunga udienza caratterizzata dalla replica fiume del PM Luca Cerretta che in quasi tre ore ha ritenuto dover puntualizzare su parecchi temi emersi nelle ringhe difensive. Nel primo pomeriggio le contorepliche prima della lettura del dispositivo da parte del giudice Marina Valente che ha deciso per la condanna a quattro anni e otto mesi per l'ex assessore comunale Giacomo Cuzzi, quattro anni e quattro mesi per altri due ex assessori comunali Moreno di Pietrantonio e Simona Di Carlo, quattro anni all'imprenditore Cristian Summa, quattro anni e due mesi per il promotore musicale Andrea Cipolla e due anni pena sospesa per i suoi due collaboratori Gianfranco Berardinelli e Alessandro Michetti. Nella sua replica il PM Luca Cerretta ha ripercorso punto per punto quelle che sono state le vicende dal 2014 a tutto il 2019 per le quali gli imputati si sarebbero resi protagonisti di condotte perseguibili in base ad ipotesi di reato che andavano dalla corruzione al finanziamento illecito dei partiti alla turbata libertà degli incanti e turbata libertà nella scelta del contraente. Si sarebbe imposto al comune di Pescara per quel che riguarda concerti e spettacoli una sorta di regime di monopolio con una ventina di eventi affidati tutti a Cipolla o a società a lui collegate. In cambio l'allora assessore Cuzzi avrebbe avuto d'azioni per quanto riguarda la campagna elettorale e perfino voti. Un accordo corruttivo anche nel rapporto tra l'altro imprenditore Cristian Summa, Moreno di Pietrantonio e Simona Di Carlo anche qui d'azioni. Un cambio di favori. Valuterete ovviamente il ricorso in appello? Questo è scontato, è fuori discussione, ma è ovvio che non valuteremo il ricorso in appello, ricorreremo in appello perché immaginiamo quali saranno poi le motivazioni della sentenza del Tribunale. Quelle leggeremo per bene, ovviamente ci renderemo conto e ci regoleremo di conseguenza. È ovvio che, detta così, a mio parere lo spazio per un'impugnazione sulle prove che ci sono, secondo me c'è, però certo dobbiamo ragionare sulle motivazioni del Tribunale di Pescara, che sappiamo essere un Tribunale attento, quindi dobbiamo verificare un attimo le motivazioni. Non condividiamo questa decisione, almeno per quanto concerne la posizione del Summa e quindi aspetteremo, come si dice, ma è veramente così, le motivazioni della sentenza che saranno date tra 90 giorni e certamente proporremo appello verso questa sentenza che ci sembra non giusta, con riferimento ai fatti che erano messi in sede dibattimentale e comunque all'intero compendio processuale. Grazie a tutti.